Una biblioteca da salvare, un presidio culturale unico in Italia e nel mondo, perché rappresenta il centro di documentazione libraria sulla Calabria più grande che esista, oltre 50.000 volumi ed un patrimonio di conoscenza che affonda le sue radici nei secoli. La sua sopravvivenza è a rischio perché, come ha denunciato il direttore Francesco Bartone, ospite degli studi della C, la legge regionale 19 del 1995, che assicura il sostegno alla biblioteca calabrese di Soriano Calabro, non viene finanziata dal 2011. E così questo scrigno di cultura e conoscenza rischia di chiudere i battenti. Lo stesso Bartone, che ha rivolto il suo appello al neogovernatore Mario Oliverio, al vicepresidente della Giunta regionale Enzo Cicconte, non ha esitato a spiegare come egli stesso abbia dovuto pagare di tasca propria le bollette per l'energia elettrica. Fino a questo momento la politica ha taciuto, l'unica ad interessarsi concretamente dalla sopravvivenza alla biblioteca calabrese, è stato il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, il quale, dopo essersi recato personalmente a Soriano e dopo aver incontrato il direttore Bartone, ha inoltrato un'interrogazione al governatore, evidenziando, ha scritto Mangialavori, che la permanenza di tale biblioteca va tenacemente e prioritariamente perseguita sia per il patrimonio librario custodito, sia per le sue innumerevoli potenzialità di aggregazione sociale, presentazione libri, convegni, finalità educative e didattiche. Da qui la richiesta, al neopresidente della Regione, di adottare misure idonee ad assicurare la presenza e il mantenimento dell'Istituto della Biblioteca Calabrese, attraverso il sostegno economico necessario per scongiurarne la chiusura.